La votazione è chiusa. Presidenti 240, votanti 230, assoluti 10, maggioranza 116, favorelli 138, contrarie 92. La Camera approva. Da oggi chi imbratta o danneggia un monumento paga di tasca propria. Questo principio è diventato legge dello Stato. Non pagano più i cittadini italiani, ma pagano coloro i quali si sono resi responsabili di questi gesti. La tutela dell'ambiente, i cambiamenti climatici sono questioni decisive del nostro tempo, sulle quali tutti quanti vogliamo concordemente lavorare. Ma imbrattare o danneggiare un monumento significa soltanto ricercare inutile clamore mediatico. I Mittal continuano a utilizzare la stessa tecnica che hanno utilizzato in questi anni, cioè quella di continuare a mettere in atto azioni che sono di disturbo e sono deleterie per l'Italia e per i lavoratori che noi rappresentiamo. Questa volta però, come tutte le tecniche che sono perverse, che sono sbagliate, arrivano a capolinee. Noi riteniamo dopo questo incontro di avere la compiutezza che la strategia di Mittal ormai è finita. Vogliamo garantire il futuro della produzione, dell'ambientalizzazione, ma anche per tutte le lavoratrici e lavoratori. Non possono pagare i lavoratori e i cittadini delle città dove vivono questi impianti, le scelte sbagliate e gli errori che sono stati fatti dalla proprietà fino ad oggi. Ci siamo confrontati col governo su questi aspetti. Il governo ci ha non solo garantito il confronto, ma ci ha garantito alcune scelte. Che i commissari saranno scelti su basi produttive e industriali, che i 320 milioni non saranno messi in accedere d'Italia, ma saranno messi in mano i commissari per garantire non il mantenimento degli impianti, ma la piena continuità produttiva. Noi abbiamo lavorato come è noto per fare un piano di rifiuti che sulla base degli indirizzi dell'Unione Europea e anche del nuovo piano di rifiuti del governo, che adesso la cornice prevede un'autosufficienza impiantistica, una riduzione dei rifiuti prodotti, un aumento della differenziata e del riciclo, impianti quindi per la quota differenziata, biodigestori, trattamento dei vari materiali, e per la quota indifferenziata residua, solo per quella residua, quindi invece la valorizzazione energetica che è con l'azzeramento e il conferimento in discarica e anche il recupero di molti materiali, materiali da costruzione, addirittura metalli, eccetera, quindi un sistema di economia circolare che ridurrà i costi economici e l'impatto ambientale del sistema di rifiuti in Roma. Naturalmente, lo sono come noto, sono gli impianti che richiedono alcuni anni che stiamo realizzando. Nel frattempo Roma si è dotata di questo sistema di sbocchi variegato che stiamo ulteriormente potenziando proprio per far fronte al venire meno della capacità di Malagrotto in modo strutturale per ricreare quel margine di sicurezza che ce l'avevamo dati. Anche questo terzo mandato sarà di nuovo diverso, sempre così perché è cambiato il contesto, il contesto europeo è molto difficile, abbiamo una guerra in Europa, abbiamo adesso dovuto superare tante crisi, però devo dire che parto con la consapevolezza che siamo messi abbastanza bene, siamo usciti meglio dalla crisi di quasi tutte le regioni europee e perciò si sono tutti presi posti. Personalmente io rimarrò fedele ai miei valori e voglio far bene perché soprattutto voglio alla fine poter dire che ho fatto ciò in cui io credevo.